Ciao bellezza e bellezza Tornate sul canale Spacchettamento del lunedì Ma questo è speciale perché è in collaborazione con Danielita92 Del canale Danielita92 Lei si chiama Daniela Ringrazio perché è gentilissima L'ho già detto in varie volte Tra le uniche che mi è stata sempre dietro Cioè mi ha sempre seguito anche quando ero sparita La ringrazio perché ha accettato Mi sembra che ho proposto io questa volta Non ricordo Daniela dimmi se sbaglio Registro il video di lunedì mattina presto presto Perché il pacchetto è arrivato intorno alle 10 Così 10 e mezza Eccolo qua È un pacchettino, solo uno Quindi facciamo che ci sbrighiamo Volevo dire qualcosina Lascerò nell'info box il canale di Daniela Andate a vedere il suo video in collaborazione con me Lasciate un bel like Condividete E date anche un'occhiata al canale Visto che ci siete Perché è una ragazza che si occupa di tante cose Da i finiti del mese I prodotti migliori Recensioni All e quant'altro Quindi seguitela Ah, anche le ricette Iniziamo Apriamo il primo pacchetto Ok, mi sa che l'ho aperto all'incontrario Non vorrei insistere Infatti sì Brava cretina Vabbè L'ho aperto all'incontrario Ragazzi Ed è pienissimo Sono alcuni prodotti che aspettavo già qualche giorno fa Ho avuto i due giorni di stop Ma in realtà hanno ritardato Mi hanno anche mandato un'email Li tiro fuori un po' alla volta E infatti sì L'ho aperto all'incontrario Brava Bravissima Vabbè Iniziamo Iniziamo con questo Dai Allora Tom Shine Sarà la decima confezione che ricevo Cioè non posso più Ed è filo di rame Con appunto con le lucine Non ne posso più perché sarà veramente la decima confezione Poi tutte uguali le fanno Vabbè E one Due Anche questa mi sembra che l'avevo già ricevuta Una telecamera L'avevo ricevuta il mese scorso forse Comunque Questa Mi è arrivata un'altra Cambia solo che il colore probabilmente No è uguale Nero Vabbè È una spia camera Una camera spia Non lo so come si chiama Non ce l'avevo già iniziato a fare video spacchettamenti Ma questa è la seconda Vabbè E tutti gli accessori Quindi la spina USB E a muro La pezzettina per pulire Un cavo per computer E il suo cavetto appunto rivestito in plastica Acciaio Non lo so Aspettate Così Per appunto ricaricarlo Eccolo qua E due Poi Abbiamo questi Che è un'altra azienda Perché l'ho ricevuti Della Valwe Market Vabbè Comunque Questa è la De Lanci De Lanci E sono Se non sbaglio Sì Tinte labbra Wow Che belle Allora Sono Due Tre Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 Matte Lip Lip Cream Sono tutti Matte Il colore Non so come li vedete lì Però Sempre matte Ma non Ah ecco Scusate Salem Non so che significa Winked Ne proviamo uno Pink Velvet Red Velvet Proviamo il Red Velvet Dai Proviamo il Red Velvet Pansi Punsi Punzallah Intanto li rimetto dentro Anche se no Intanto uno Ne proviamo Poi se volete La recensione completa Se vi interessa Magari Buffy Color Buffy Non sapevo che Buffy Avesse fatto Non ne ho idea Di come si possa leggere E poi abbiamo le tinte Un po' più chiare Che a me piacciono Blatched Blatched Non lo so Un marrone più scuro Showroom Ma showroom Facciamo fungo Cashmere Questo è più sul perlato Sud di Berry Sud di Berry E Bet It Bet It Bet It Ok Proviamo il Rosso Ah ecco Tutti quanti sono Incartati Da questa Carta Che non so se vedete Ce la faremo? Ce la faremo Ecco Ecco qua Ecco Fatto prima Non ci spieghiamo più Ok Ma proviamo? Io non vedo Niente Guarda Già li posso dire Mi fanno schifo Beh il colore è bello Molto rosso Però la scrivibilità Sulle labbra Non è piacevole È ruvido È come se si impasta Cioè non scorre Non so come farvelo capire Però magari È il primo E devo provare L'altro Non lo so Come sono da fare Sti giorni qua L'odore è Del gustoso Quindi c'è il favore Che va in bocca È veramente blu Ma è veramente blu Sto sistemando sti cosi Ma non si vogliono sistemare E quindi Lo sistemo A modo mio E non si chiude Non è Scusa E poi come ultimo Ah no Questo va Questo che pure ne ho già ricevuti A migliaia Sono quelli che fanno diventare Le unghie Specchio Non lo faccio Perché devo avere una base sotto Nera Quindi non ho proprio Quindi questo è il pigmento Che farà diventare Color oro Le vostre unghie Specchio ovviamente E questo argento Quindi silver Sono carini Da provare Cioè da provare Io già ne ho un po' di tutti i colori Questo E poi ho l'ultimo pezzo forte Che è una palette Sempre della Lanci Sì perché Questi erano quelli che dovevano arrivare Settimana scorsa Va bene Si presenta un packaging Molto Molto Anonimo Non mi piacciono Questi packaging Cioè nel senso Semplice sì Però almeno metterci un marchio Cioè O il nome del venditore Lanci Come è stato fatto Per La pochette Vedete Ecco Magari avrei preferito Così Vabbè Non decido io Però glielo scriverò Il venditore E gli darò un consiglio Ok Quindi packaging Classico Plastica Nero Nero su nero Tutto black Total black E se ce la faccio Ad aprirlo E sono Questi Dai I colori sono molto belli Calcolando Non a specchio Ve li sguaccio un pochino Vediamo un po' Alcuni sono shimmer Alcuni sono opachi E ne proviamo Allora Proviamo questo Carino No Molto carino Proviamo Questo rosa pastello È molto molto chiaro Non so se si vede Aspettate È chiaro Molto chiaro Non si vede Mi sa È molto chiaro E puzza Ma Ok Prendiamo questo qui Più scuro Bello scuro 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 Che si vede Viola Che voi Lo vedete Tipo un blu Ma vi assicuro Che è un viola E mo Ve lo faccio vedere Guardate che bello Sto in crisi qua Ok Poi se vi interessa Qualc'altro colore Mo esco con le mani così Se vi interessa Qualc'altro colore Me lo dite Io Lo pubblico magari Su Instagram O faccio un video Un tutorial Anche se io Ragazzi Sono impedita Non me lo chiedete Perché Non so Buona Quindi Anche se voglio impegnarmi Mi impegnano Fatti un po' Ah Aspettate un po' Ah si Di matte Vi volevo farvi vedere Un altro Ma Questo aranciato Qui Che bello È un mattone Comunque sono buoni Scrivono abbastanza bene Sono scrivibilissimi E scorrono anche molto bene Appunto Sulla Cioè Notare L'ora della scemità Vabbè ragazze Anche oggi Lunedì Abbiamo terminato Appunto Con Gli spacchettamenti Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Condividete E andate Da Daniela Danielita92 E andate a vedere Che cosa ha ricevuto lei Lasciate un like E ci vediamo Al prossimo Video Spacchettamento Ciao ragazze